I have video d'attualità, I have clickbaiting, BOOM! Sacco di visualizzazioni, fondamentalmente si rassume così il mio canale. Oggi parliamo di PPAP, ovvero pen pineapple apple pen, la canzone che ti entra nel cervello ed esce da altre parti meno visive del corpo perché me l'avete chiesto voi fondamentalmente e io sono sempre pronto a soddisfare le vostre richieste, motivo per cui sono stato indagato per moleste sessuali. La domanda che mi è stata posta è, perché non ci parli di questo fenomeno e del perché? Ha avuto così tante visualizzazioni, è diventata così famosa questa canzoncina. Pensavo di non doverlo fare questo video perché qualcun altro l'ha già spiegato, dicendo ha avuto successo perché è virale. Che però non è una spiegazione, sono sinonimi. Fondamentalmente ci sono 5 motivi e dato che sto facendo questo video senza aver scritto niente, probabilmente saranno di meno o di più e farò una figura di merda. Il primo motivo sicuramente è che è orecchiabile, è inutile minare troppo il campellaia perché è ovvio che è una canzone che ti entra nel cervello e che ti ritrovi tuo malgrado a cantare in altri momenti della giornata, tipo quando stai presentando il tuo libro alla casa editrice. Può sembrare una cosa scontata, ma in realtà non è così semplice creare un motivetto originale che rimanga dentro il cervello ed è il motivo fondamentale che si basa dietro al successo di alcune canzoni e di alcune marche di prodotti. Infatti nella pubblicità l'utilizzo di jingle musicali è molto molto frequente, basti pensare a I'm Lovin' It di McDonald's, quante volte l'abbiamo risentito nella nostra testa e ci siamo ritrovati a canticchiarlo. Ho la versione più italiana e maccheronica di Mastro Lindosgrassatore sulle macchie fai furore. È un po' meno efficace di quella di McDonald's ma ti fa capire quanto vengono utilizzati i jingle musicali nella pubblicità. Quindi il fatto che sia orecchiabile è uno dei motivi del suo successo, il secondo è che sia molto facile. Infatti questa lanzone ha letteralmente tre parole, pen, apple, pineapple all'interno e può essere cantata da chiunque, non solo da coloro che parlano in inglese, quindi permette una diffusione in tutto il mondo. E soprattutto è corto, nell'area di internet l'attenzione dell'utente è molto bassa e dura pochi secondi. Per farvi un esempio la maggior parte degli utenti non sono arrivati a questa parte del video, quindi per farvi capire che di solito uno stacca dopo 20-30 secondi. Almeno che ovviamente non sia molto interessato, ma quando una cosa la vedi per la prima volta è difficile che tu abbia già questo grande interesse che ti ha portato ad aprire i video, soprattutto su Facebook in cui vedi le cose in maniera abbastanza casuale. Quindi se l'attenzione è di 20-30 secondi, se te fai un video di 5 minuti che è divertente ma la battuta arriva alla fine ovviamente la gente non si diverte e non lo ricondivide. Se invece fai un video di 40 secondi la percentuale di videovista sarà altissima e quindi è più facile venga ricondiviso e apprezzato. Ed è lo stesso motivo che si scelga dietro il successo dei Vine, Vine che durano 7 secondi e ti spiega perché vengono condivisi così tanto. Perché è immediato, è qualcosa di stupido, spesso demenziale, che fa ridere e allora è molto più facile condividerlo con i suoi amici invece di dirgli guarda, c'è questo video di 10 minuti, è divertente ma te lo devi guardare tutto. Terzo motivo fondamentale è che è demenziale, su questo non ce lo dimentichiamo, su internet tutto ciò che non ha senso, che è demenziale, ha un successo strepitoso perché permette alla gente di non pensarci troppo e di non avere una grande cultura per apprezzare quella forma di umorismo perché se ad esempio io condivido uno spettacolo di stand up comedy politica e uno non ha i mezzi, le competenze per comprenderla sicuramente non lo guarderà e non l'apprezzerà. Invece un tipo di video in questo modo che non ha particolarmente senso può essere apprezzato da tutti, dai 3 ai 99 anni come i giochini della Lego. Il quarto motivo è il balletto, non dimentichiamo che il successo strepitoso che ha avuto Gangnam Style che l'ha fatto diventare la canzone più vista su YouTube è proprio il balletto. Infatti qualcosa che può imitare, qualcosa di stupido, qualcosa di riverente viene solitamente ricondiviso e viene parodizzato infatti sono usciti da tutte le parti video di gente che balla pen pain apple pen il più bello che ho visto era di una giapponese che si toccava le tette mentre lo faceva e l'ho apprezzato particolarmente per il suo altro spessore culturale perché fondamentalmente l'uomo è un discendente della scimmia e la scimmia vede e la scimmia imita quindi quando vediamo disagiato ballare in quel modo ci viene spontaneo di fare lo stesso. L'ultimo motivo fondamentale ed è quello che si dice là dietro a un po' tutti i successi all'ultimo tempo ovvero la canzone ha avuto una portata virale immediata perché è stata condivisa dalla persona giusta. Non dico che non se lo meritasse dal punto di vista tecnico a tutti i requisiti per diventare virali ma avrebbe avuto una crescita un pochino più lente e graduale invece così è stata immediata. Un giorno non c'era e il giorno dopo l'avevano visto 30 milioni di persone e perché? Fondamentalmente perché è stato ritwittato da Justin Bieber che ha tipo 80 milioni di persone che lo seguono su Twitter e lui l'ha ritwittato dicendo la mia canzone preferita quindi vi fa capire immediatamente in che bacino d'utenza, in che pubblico si è ritrovato. E ovviamente solgono le domande perché capitano solo a queste persone qui? Perché non capitano a me di persone famose che prendono il mio video, lo ritwittano io divento improvvisamente virale e faccio 50 mila visualizzazioni a video e posso prendermi una Porsche e posso lasciare il mio lavoro. Fondamentalmente è perché i miei video fanno cagare oppure perché sono più lunghi di 40 secondi. No, no, è perché fanno cagare. Quindi ecco il motivo misterioso che si nascondeva dietro il successo di PPAP. Ora che lo sapete, cioè quello che sapevate già prima, cioè potevate arrivarci da soli, quindi sono sempre qui che tocco l'acqua e faccio... bagnata, questo è il mio compito a quanto pare. Ci vediamo domani con un prossimo video, grazie a tutti dei like, dei commenti, delle condivisioni, dei messaggi privati, delle foto hard e state a me bene, non pigliate niente a nessuna e a tanti banditi. Grazie a tutti i miei video, grazie a tutti i miei video, grazie a tutti i miei video.